ciao angela come vede sono angelo in persona personalmente spero che lo puoi aprire questo video lo puoi ascoltare perché c'è una canzone che tu conosci non so se ti ricordi io non vedevo l'ora che veniva l'orario del tuo programma per ascoltare questa questa sigla ciao non la faccio ascoltare tutte perché forse non la può pubblicare